Ambiente ma non solo, perché nel Consiglio Comunale di Frosinone è stato toccato anche il tema della sostituzione della condotta fognaria da parte di Acea. Questa condotta fognaria collegherà dalla zona di Magnano, quindi da via Fosse Ardenatine, e arriverà fino a Pratillo. E quindi ci sono da 1.250.000 euro che Acea ha pronti da quasi tre anni per effettuare questo lavoro. E quindi io ho chiesto come mai questi lavori non vengono autorizzati, visto che il progetto è stato già presentato da alcuni anni, come mai solamente una volta si sono incontrate le parti. Io ho chiesto tramite un accesso agli atti una serie di documentazioni, dalle quali ho scoperto che Acea e Lasto sollecitano il Comune di Frosinone, l'assessore Fabio Dagaferri e i dirigenti che si sono susseguiti, quindi è Leonuce e adesso c'è il nuovo dirigente d'architetto Sorrentino, affinché ci si incontri e si riesca ad ottenere questa autorizzazione. Oggi io questo accesso agli atti che è formato da una quarantina di fogli l'ho consegnato all'architetto Sorrentino, affinché il Comune di Frosinone parli con Acea, parli con Lasto, si incontrino e finalmente si riesca a effettuare questo lavoro che è importantissimo, perché verranno collegate 2.500 famiglie alla rete fognaria.